Oggi venerdì stiamo andando a Kike Beach perché c'è il Dubai Food Festival e quindi c'è la beach canteen. Ci sono un sacco di food truck, un sacco di cose da mangiare e quindi oggi invece di andare in spiaggia, che è una delle nostre cose preferite da fare il venerdì, facciamo un'altra delle nostre cose preferite da fare il venerdì, ovvero mangiare. Dobbiamo andare lì, ecco perché non possiamo portare il nano da nessuna parte. Allora, questo bau è buonissimo, ci ha costato 9 euro. Non provo l'uogo. 35 lira, non proprio economico. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di più. Non credo. Ma dubitiamo. Mattia è agitato, non abbiamo neanche finito di masticare il bau e vuole andare a mangiare qualcos'altro, quindi andiamo. Questo è il posto che ci ha attratto. Cosa mangiamo? Di queste cose? Altri 60 dirham sono andati per queste pannocchie che non abbiamo capito cosa siano e questa insalatina. quindi siamo a quota 100 dirham, 25 euro. Come si chiama questo? Madame. Come? È madame. È madame. È madame. È madame. È un po' dislessico, Mattia, dovete sapere. Come si chiama, mi dici? È da mame. È da mame. Eccolo. Eccolo. Thank you. Thank you. Come è? Aiuto. È un po' piccantino, però è buono. Ragazzi, non ce la faccio più. Guardate qua. Allora, il gelatino 25 dirham. 6 euro. 6 euro. Insomma. Però vediamo se li vale. Abbiamo trovato una piccola O. Sì, è una piccola Beach Library. Come funziona? Niente, vai, ti siedi, leggi e poi le riporti qua. Ah, no, io le ho porto a casa. No, le ho riporti su fino alla prossima. Le prima e la prossima le ho riporto. Questo è quanto abbiamo camminato. Dovevamo ritornare là in fondo. Ciao ragazzi. Sono a casa, come vedete. Essendo la prima volta che faccio un video del genere, mi sono dimenticata di filmare una parte in cui vi dicevo che me ne stavo andando. Una volta tornati a casa, guardino, aveva fatto un casino. Quindi, ora mi devo dedicare un po' a lui. Questo video è finito. Se volete vedere più video di com'è la vita a Dubai e che cosa facciamo, fatemelo sapere. E suppongo che questa sia la parte in cui vi dico di fate un like, lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale. Ci saranno più video in arrivo. Ciao! Che hai fatto? Che hai fatto? Ieri ti ho svidato. Di nuovo l'hai fatto. No!